non dormire no basta di parlare forte no perché microfono lì quindi potresti non sentirti farlo forte allora cosa mi dovevo prendere cobblestone io non so fare l'introduzione cosa mi dovevo prendere cobblestone ciao a tutti no allora falla per l'introduzione ciao a tutti molto originale va bene cosa cosa dobbiamo fare ciao amici oggi dobbiamo fare un mulino un che? un mulino un micio un mulino un micio un mulino un micio un mulino allora ragazzi in vostra senza ho fatto un sacco di robe ma non vi starò qui a far vedere parleremo poi un episodio a parte dunque andiamo nella stanza delle necessità eccoci allora il dilemma è che sto sperimentando questa mod della create mod è un macello tutto ciò per creare per riempire i flui cell per poter fare gli overclocker che ne ho già fatto uno però tra una cosa e l'altra mi è preso e quindi niente eccoci qui a scervellarci come le madonne anche perchè ho visto delle wiki quella ma fatte a cazzo veramente e quindi stiamo facendo facendo tutto da noi e tu cosa cazzo sparisci animale mi serve l'arco mi dava fastidio ragazzi scusate allora dicevamo dobbiamo fare un mulino dobbiamo fare un mulino allora è un casino ragazzi non c'è estetica in tutto ciò ma non fa niente dunque quanto grande lo facciamo così le superfici ce l'hai allora devi solo rimettere perché le togli tutte smontiamo perché prima solo i collegamenti e smonto perché buco e perché così le facciamo meglio perché adesso è un casotto dunque il problema è che il mulino deve stare cioè questa cosa deve essere fuori ok la cosa brutta di questa moto si deve stare fuori ok però quello che dicevo io è che almeno con quella a fare sotto la contieni l'acqua non la lasci andare in giro si e fin qui va bene quindi adesso prova a mettere l'acqua e vedi se funziona però devi mettere l'altra ruota dunque altra ruota che va messa qui la metto attaccata al muro o spostata in avanti come l'altra come l'altra quindi devo che senso metti l'ingranaggio se no non vedi che funziona no ho gli occhiali posso vedere che funziona anche senza ah beh tu mettilo perché io non ce li ho cotetta sei va bene allora dove piazzo l'acqua dove ti ho detto io prima qui no sopra come avevi fatto prima allora una overstressed e stiamo al 96 su poi tac e quello perché l'ho fatto perché sono troppo attaccate qui sta al 96 e niente si rompe metti altra acqua lui è stressato e lui no perché ovviamente sta girando a vuoto d'accordo mettiamo altra acqua dove hai messo l'acqua ce l'ho proprio lì fuori e devi fare tutto il giro no però dato che dovremmo salire e scendere un po' di volte ho pensato che queste vorrebbero tornare utile inoltre può tornare utile anche questa eh ma quella magari e poi vorrebbe essere utile mangiare allora dunque ho piazzato il buco qui ma perché devi essere sempre così stronzo da entrare nelle abitazioni altrui ma il lama ma il lama porco era pure dell'inglese in questo sclero anche te sto copiando voi sapete che se non prendi l'acqua non risolvi i problemi no volevo vedere se funziona funziona ok forse non una due andiamo ok così evitiamo di bloccarci quindi la prova di là dove è stressata dove la metto proprio è di fianco a quella che hai piazzato boom 128 su mettila dall'altro lato 128 su non l'hai piazzata malissimo dov'è prendi lì mettila lì così si blocca perché è acqua più fissa giusto adesso è stressato 128 quindi 128 quindi 128 è il massimo penso di sì quindi lì va bene così devi fare un 128 anche di lì lo devo mettere all'angolo così 128 l'acqua ti cade giusta perché non va in giro quindi 200 128 più 128 256 circa a me serviva te lo dicevo 30 30 perché adesso ne chiedono 32 ah consumano 32 alla velocità attuale o è stress si sono bloccate entrambi giustamente e devi creare un'altra magari oppure non si può collegare in due in due punti in che senso? nel senso fare due punti di collegamento separati si attacca solo da lì quello a fare in realtà si attacca dappertutto ma qui devo uscire il pezzo quindi dovrei farlo sopra se tu ne attacchi ne metti due che girano per conto suo collegati per conto suo che non girano tra di loro e stacchi il collegamento in mezzo li fai girare da una parte e dall'altra in maniera indipendente vediamo si rimane comunque best resta ma quantomeno a meno la sua uscita e adesso devi costruire un'altra che puoi salire bene allora più che altro volevo mettere questo qui sopra e per farlo devo fare così 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 fa cagare assolutamente sì però per il momento ci accontentiamo qui devo farne un'altra questi va bene posso fare tu che cagli che vedi perché il gioco ti odia mi fai un'altra ruota il gioco ti sta dicendo fai un'altra ruota sì allora ruota larga quindi mi serve mi serve ma devo rifare slab voilà la rifise il rider è vicino meno di un minuto giuseppe ci sta portando la cena ragazzi grande giuseppe grande giuseppe applausi per giuseppe detto questo dormi dai ho fame quando suona vai tu va bene quindi facciamo una leggerissima pausa d'accordo